ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale nel tutorial di oggi andiamo a realizzare questo sole portachiavi all'uncinetto progetto facile e veloce adatto anche per i principianti possiamo farli in tanti colori diversi e abbiamo bisogno veramente di poco filato per cui può essere anche un modo per utilizzare dei filati avanzati da progetti precedenti chiaramente il tipo di filato o meglio detto lo spessore del filo determinerà la grandezza del nostro sole infatti come potete vedere in questo caso ho utilizzato un filato più spesso con un uncinetto più grande e ho una dimensione completamente diversa da quest'altro sole allora io vado a realizzare dei portachiavi però per esempio questo tipo di sole con questa grandezza può essere appeso magari anche sopra una culla fissando su qualche raggio delle campanelle o possiamo fare delle ghirlande per decorare un muro o appenderlo come benvenuto su una porta d'entrata insomma tante possono essere le idee di utilizzo e adesso andiamo a vedere cosa ci occorre e poi possiamo partire col tutorial abbiamo bisogno del nostro filato due colori un colore per fare il sole il secondo colore per fare i raggi io userò un 100% cotone voi chiaramente come ho detto potete usare cotone acrilico o quello che avete in casa l'uncinetto che adeguerete in base al filato che andate ad usare nel mio caso è l'uncinetto del numero 3 poi ci serve una forbice un ago da lana pochissima imbottitura acrilica per dare un po' di forma al nostro sole e poi appunto come ho detto io vado a realizzare dei portachiavi per cui abbiamo bisogno di questi anelli per poi infilarci le chiavi ci prendiamo il nostro primo colore che nel mio caso è il giallo andiamo a fare un anello magico e caricare due catenelle una e due queste due catenelle non sostituiscono nessuna maglia alta all'interno di questo cerchio adesso andiamo a fare un totale di 13 maglie alte prendiamo il filo sull'uncinetto entriamo all'interno del cerchio ci peschiamo il filo lo portiamo di qua abbiamo tre asole sull'uncinetto prendiamo il filo passiamo attraverso le prime due asole restano le prime due asole attraverso le prime due asole e abbiamo fatto il nostro primo punto alto ripetiamo filo sull'uncinetto entriamo all'interno del cerchio peschiamo il filo lo portiamo di qua abbiamo tre asole prima chiudiamo le prime due asole e poi le ultime due e così adesso andiamo avanti a fare le nostre maglie alte per un totale di 13 e poi ci rivediamo alla fine delle 13 maglie terminate le 13 maglie alte prendiamo il filo dell'inizio tiriamo così il nostro anello si chiude e poi chiudiamo questo giro allora qua abbiamo le due catenelle una due queste le ignoriamo andiamo sopra il primo punto alto entriamo in tutte e due le asole e andiamo a fare un punto bassissimo e abbiamo terminato questo primo giro tiriamo ancora bene così l'anello si chiude completamente e poi con l'ago nasconderemo questo filo facendolo passare qua all'interno delle maglie e poi lo tagliamo iniziamo giro numero due sempre con due catenelle che non sostituiscono nessuna maglia alta in questo giro andremo a fare un aumento in ogni maglia del giro sottostante aumento significa che faremo due maglie nella stessa maglia per cui ci prendiamo il filo sull'uncinetto e qua subito nel primo punto dove siamo entrati per fare il punto bassissimo rientriamo e andiamo a fare un punto alto e nello stesso punto rientriamo e andiamo a fare un secondo punto alto nel prossimo punto libero andiamo a fare le prossime due maglie alte nel prossimo punto anche qui due maglie alte due maglie alte in ogni punto e alla fine del giro ci troviamo con 26 punti terminato il nostro giro praticamente abbiamo terminato anche il nostro sole allora non ci chiudiamo nel primo punto alto con un punto bassissimo ma allunghiamo l'asola tagliamo il filo lo sfidiamo e adesso ci procuriamo l'ago da lana e andiamo a fare un'asola di chiusura per rendere diciamo il giro il finale del nostro giro molto più pulito allora qua abbiamo le due catenelle le ignoriamo la prima maglia alta saltiamo anche questa e andiamo sopra la seconda maglia alta entriamo in tutte e due le asole facciamo passare ago e filo e poi andiamo nell'ultima maglia alta che abbiamo fatto entriamo solo nella costina dietro del punto e poi entriamo nella costina dietro della prima maglia alta e così facciamo passare ago e filo sistemiamo il filo ed ecco qua una chiusura perfetta adesso giriamo il lavoro e andiamo a nascondere questo filo all'interno di qualche maglia facciamo anche un nodino per una maggiore sicurezza e poi possiamo tagliare il filo e adesso andiamo a fare un pezzo uguale identico a questo io l'ho già preparato allora andiamo a mettere rovescio sul rovescio praticamente la parte dritta guarda verso di noi ci prendiamo il secondo colore che nel mio caso è il bianco perché adesso andiamo a realizzare i raggi del nostro sole entriamo in un punto qualsiasi in tutte e due le asole su questo su questa parte e anche sulla parte di fronte prendiamo il filo nuovo lo facciamo passare e andiamo a fare un nodino questo filo qua cerchiamo di tenerlo all'interno della lavorazione adesso rientriamo nello stesso punto sia sul lato che sul lato di fronte facciamo passare il filo e andiamo a caricare due catenelle dobbiamo sempre lavorare il punto su questo lato e anche il punto sul lato di fronte prendiamo il filo rientriamo nello stesso punto in tutti i due lati e andiamo a fare un punto alto 3 catenelle 1 2 e 3 e qua abbiamo la prima catenella sotto la prima catenella entriamo in queste due asole e andiamo a fare un punto bassissimo in pratica abbiamo fatto un punto picco riprendiamo il filo sull'uncinetto rientriamo nella stessa maglia sul lato e anche di fronte e andiamo a fare un punto alto e nello stesso punto un secondo punto alto e abbiamo fatto il nostro primo raggio saltiamo un punto di base sempre attenzione di fare la stessa cosa anche di fronte entriamo in quello successivo sia sul lato che sull'altro e andiamo a fare un punto bassissimo e da qui ripartiamo e ripetiamo prima le due catenelle lavoriamo tutto nello stesso punto poi un punto alto 3 catenelle entriamo nelle due asole che si trovano sotto la prima catenella entriamo e andiamo a fare un punto picco e poi ripetiamo due maglie alte tutto nello stesso punto e abbiamo fatto il nostro secondo raggio saltiamo il prossimo punto sia su un lato che sull'altro chiaramente entriamo in quello successivo e andiamo a fare un punto bassissimo e da qui ripartiamo due catenelle un punto alto 3 catenelle entriamo nelle due asole e facciamo il punto bassissimo e altre due maglie alte poi saltiamo di nuovo il prossimo punto entriamo in quello successivo e qui ripetiamo il punto bassissimo come prima cosa due catenelle il punto alto le 3 catenelle entriamo nelle due asole sotto la prima catenella e andiamo a fare un punto bassissimo e poi le prossime due maglie alte una e due e come potete vedere il nostro sole pian pian pianino sta prendendo forma adesso andiamo a fare questo lavoro fino a un po' più della metà e poi ci rivediamo perché mettiamo un po' di imbottitura e terminiamo il lavoro ho lavorato un po' più della metà del mio lavoro adesso allungo un attimo l'asola prendo un po' ma veramente poca imbottitura la mettiamo all'interno del nostro sole serve veramente poca giusto per dare un po' di forma e poi riprendo il filo sull'uncinetto e vado avanti a realizzare i miei raggi e poi ci vediamo qua al termine ho lavorato l'ultimo raggio e adesso mi chiudo entrando nel primo raggio che abbiamo realizzato qua giù in fondo e poi faccio un punto bassissimo e adesso per appenderlo o per agganciare poi l'anello per fare il portachiavi vado a caricare 8 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 entro nella prima catenella e vado a fare un punto bassissimo una catenella tiro bene a lungo l'asola taglio il filo e poi andiamo a prenderci il nostro ago da lana e nascondiamo questo filo all'interno della lavorazione giriamo il lavoro e poi passiamo con l'ago all'interno di qualche maglia possiamo passare anche all'interno della lavorazione e poi tagliamo questo filo e quando avremo fissato il nostro gancetto questo è il nostro bellissimo risultato come avete visto una lavorazione facile e veloce spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un like abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao